Ieri mattina abbiamo trovato tutte le macchine bucate e rigate. È stato un inizio dell'anno amaro per una decina di residenti della quartiere di San Laurentino che la mattina del primo gennaio hanno trovato le loro auto vandalizzate con gomme squarciate e portiere rigate. Un inizio amaro? Un inizio amaro. Le auto erano parcheggiate in vicolo della palestra a pochi passi dal palazzetto dello Sporta. Circa una decina quelle prese di mira, alcune con uno o più pneumatici squarciati, altre invece hanno riportato anche vistose rigature. Quella macchina rossa l'hanno squarciato tre gomme e mi hanno rigato tutto il cofano. Non si tratta del primo atto vandalico nella zona. Già lo scorso ottobre, proprio nello stesso parcheggio riservato ai residenti, alcune auto furono imbrattate con vernice gialla. Qui succede, ultimamente un paio di volte l'hanno. Atti vandali? Sì. I residenti adesso tornano a chiedere una maggiore attenzione e vigilanza nella zona. C'è la telecamera quella che è stata staccata per fare i lavori di ristrutturazione, ma è stata riattaccata. Qui hanno detto che i lavori sono finiti, non mi sembra che i lavori siano finiti. Quindi è sempre buio, non c'è controllo, non c'è niente, la zona è in completo degrado. La vicenda è stata denunciata alle forze dell'ordine. Ieri sul posto polizia di Stato e polizia scientifica per raccogliere tutte le tracce che potrebbero essere state lasciate dai vandali nella speranza di rintracciare gli autori del gesto.